Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio vedere con voi alcuni esercizi che riguardano sia la spinta di Archimede, sia il galleggiamento dei corpi. Questi argomenti, la parte teorica, io l'avevo affrontata già in un altro video, che vi lascio il link qua sopra. Così, se avete bisogno di vedere prima un po' di teoria, sicuramente non troverete problemi poi per affrontare questi esercizi che oggi andremo a vedere. Come piccolo riepilogo, possiamo dire che quando parliamo di spinta di Archimede o galleggiamento dei corpi, questi sono due argomenti che sono collegati tra loro, perché è come se io ad esempio prendessi un oggetto che voglio spingere all'interno di ad esempio una bacinella. Quando io tendo a spingere questo oggetto all'interno del fluido, vi possono essere tre condizioni, ovvero che l'oggetto verrà spinto in basso, quindi tenderà ad affondare, oppure tenderà a rimanere in una condizione di equilibrio e quindi parleremo appunto del galleggiamento dei corpi, oppure infine vi sarà la spinta di Archimede che sarà molto più alta, quindi molto più grande del peso del fluido e quindi l'oggetto tenderà a rimanere in superficie. Detto questo, siccome comunque, come vi dicevo, tutta la parte teorica è già affrontata in un altro video, passiamo subito agli esercizi. Il primo esercizio che voglio vedere dice una palla con raggio di 4 cm viene immersa prima nell'acqua, poi nell'olio, con questa determinata densità e infine nel mercurio. Vuole sapere quanto valgono le spinte di Archimede che i rispettivi fluidi esercitano su di esso. Quindi io ho tre fluidi e iniziamo a ragionare appunto con il primo, ovvero nell'acqua. Allora, io so che la densità dell'acqua è 1 per 10 alla terza chilogrammi su metro cubo. Inoltre io so che la mia pallina vale proprio 4,00 cm. Me lo porto subito in metri, ovvero 0,04 metri. Facciamo il nostro primo disegno. Allora, questa è la mia pallina che viene immersa in acqua. Noi sappiamo che per trovare la spinta di Archimede, la formula generale della spinta di Archimede, era uguale alla densità del fluido, e quindi noi ce l'abbiamo perché è la densità dell'acqua, per il volume per il g. Quindi quello che ci manca è proprio il volume. Però noi sappiamo che il volume di una sfera è proprio uguale a 4 diviso 3 pi greco per raggio al cubo. Quindi quello che devo fare è andare semplicemente a sostituire 4 diviso 3 per pi greco per il raggio che avevamo anche già convertito in metri. Andiamo a fare i nostri calcoli e possiamo vedere che ci viene 2,6 per 10 alla meno 4, metro al cubo. Me lo vado a sostituire nella prima spinta di Archimede, così da appunto risolvere la prima richiesta. La spinta di Archimede era uguale a 1 per 10 alla terza, per il volume che è 2,6 per 10 alla meno 4, per 9,81. Anche qua facciamo i calcoli e quindi vediamo che viene 2,5 newton, perché noi sappiamo che la spinta di Archimede è uguale al peso del fluido, quindi sicuramente sarà una forza e quindi l'unità di misura sarà proprio il newton. Ora, lo stesso esercizio, stessi passaggi, lo dobbiamo fare anche per quanto riguarda l'olio e il mercurio. Il volume già ce lo avevamo, quindi dobbiamo semplicemente andare a calcolare la spinta di Archimede 2, ovvero la densità del fluido. Ora prendiamo appunto il mercurio che è 13,6 per 10 alla terza, per il volume che è 2,6 per 10 alla meno 4, per 9,81. Anche qua facciamo tutti i calcoli e possiamo vedere che questa spinta di Archimede viene 35,8 newton. L'ultima cosa che ci rimane è la spinta di Archimede però nell'olio. Quindi ora la densità è 0,92 per 10 alla terza. Il volume è sempre lo stesso, per 9,81 e questo invece come risultato darà 2,42 newton. Quindi abbiamo risposto alle tre richieste del nostro esercizio. Andiamo a vederne un altro. Allora, questo esercizio dice il ghiaccio ha densità 930 kg al metro cubo e l'acqua marina invece 1030 kg al metro cubo. Quindi abbiamo sia la densità del ghiaccio, sia la densità dell'acqua marina. Vuole che determiniamo sia la percentuale immersa dell'iceberg rispetto al volume totale e poi dice se il volume dell'iceberg è 1500 metri cubi, individua il volume emergente. Quindi noi scriviamo che il volume è uguale a 1500 metri cubi. Allora, iniziamo dalla prima richiesta. Noi possiamo vedere che la densità dell'acqua sicuramente sarà maggiore della densità del ghiaccio. Quindi possiamo pensare che l'iceberg andrà a galleggiare. Però noi vogliamo andare a valutare effettivamente se vi può essere una condizione di equilibrio. Possiamo vedere che si avrà l'equilibrio quando la maggior parte del ghiaccio rimane immersa. Infatti possiamo applicare la formula, ovvero il volume immerso fratto il volume del corpo che stiamo prendendo in considerazione sarà uguale alla densità del corpo fratto la densità del fluido. Ovvero nel nostro caso il corpo sarà proprio il ghiaccio, mentre il fluido sarà l'acqua marina. Infatti andiamo a sostituire. Possiamo vedere che il rapporto del volume immerso del ghiaccio fratto il volume del ghiaccio totale, quindi dell'iceberg, sarà uguale a 930 diviso 1030. Perché la densità del corpo, come dicevo, era la densità del ghiaccio, il fluido e l'acqua marina ho semplicemente sostituito. Questo rapporto viene proprio 0,903. Siccome lui voleva la percentuale, io me lo posso anche riscrivere come un 90%. Quindi possiamo dire che la parte immersa di un iceberg rappresenta circa il 90% dell'iceberg totale, quindi del volume totale. Invece la seconda richiesta ci dice se il volume dell'iceberg è 1500 metri cubi vuole individuare il volume emergente. Quindi noi possiamo fare che il volume immerso era uguale appunto al 90% del volume totale, ovvero io posso anche scrivere 0,90 per 1500 metri cubi. Questo sarà proprio uguale a 1350 metri cubi. Quindi il volume emerso sicuramente sarà dato dalla differenza del volume totale meno il volume immerso, ovvero 1500 meno 1350. Il volume emerso quindi sarà proprio 150 metri cubi. Quindi abbiamo semplicemente applicato le formule del volume immerso in caso di galleggiamento e poi tramite ragionamento appunto capiamo che il volume emerso sarà dato sicuramente dalla differenza del volume totale dell'iceberg meno quello immerso. Ci darà ovviamente la parte superiore che noi effettivamente vediamo dell'iceberg, ovvero quella emersa. Bene, io con questi due esercizi termino per oggi. Io spero che siano chiari. Se avete qualche dubbio o qualcosa non vi chiara, scrivetelo pure nei commenti, così io posso aiutarvi. Poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!